ciao a tutti oggi prepareremo le zucchine alla menta il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono menta fresca aglio olio zucchine tagliate a tocchetti sale e pepe nero diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le foglioline di menta e le facciamo dritare per 10 secondi a velocità 8 veniamo un po sul fondo del boccale mettiamo l'aglio l'olio e facciamo insaporire per tre minuti 120 gradi velocità 1 adesso versiamo le zucchine il sale e il pepe azzioniamo il bimby per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità soft adesso verificate la cottura delle zucchine ed eventualmente prolungate la cottura se dovesse essere necessario per 5 al massimo 10 minuti dopo di che richiudiamo con il coperchio il misurino e lasciamo riposare per ulteriori cinque minuti le zucchine all'interno del boccale chiuso trascorsi cinque minuti andremo a impiattare zucchine alla menta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti